ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodietto dedicato a voi che state guardando è certo voi che state guardando cioè una reaction ai vostri video che non è ai vostri video ma ai vostri orologi voi me li mandate e noi li commentiamo noi pluralis maiestatis no noi tutti assieme la community anche nei commenti sotto al video no si commentano gli orologi poi chiaramente io sono un pochino cinico beffardo e infingardo e quindi a volte risulto cattivo ma d'altronde siete voi che mi mandate video non sono io che vengo a casa vostra a dirvi questo qua è brutto questo qua è bello siete voi che me li mandate implicitamente mi chiedete cosa ne penso e quindi io ve lo dico cosa ne penso può essere bello può essere brutto può essere cattivo detto questo io vi ricordo il quinto watch meeting ragazzi domenica 12 maggio che si avvicina sempre di più ci sarà il quinto raduno del canale ci potremo incontrare tutti assieme per fare una rimpatriata orologiera cioè ci incontriamo parliamo di orologi ci presentiamo ognuno col suo orologio al polso capita anche che le persone vengano con degli orologi in saccoccia cioè non solo al polso sono persone che sono venute con orologi in tasca per mostrare agli altri amici a me magari fare le riprese durante il video perché farò un video no durante durante watch meeting piccolo video di e quindi magari anche l'occasione per comparire nel video far vedere i vostri orologi nel video no venite ci saranno i banchetti di vulcane longin oris che anche sponsor della manifestazione e il buon francesco calamai con i suoi orologi calamai che ti tolgono dai guai quindi ci sarà un pur puri di situazioni poi si può andare nel negozio insomma a viareggio e prezzo la gioielleria pasquale domenici alle 15 domenici 12 maggio vi aspetto venite fatemi sto favore detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo di l'ervetta dana wind al quale io ho messo questo nato in cuoio in pelle in vacchetta toscana come suol dire vacchetta toscana è però è da 20 da 20 rispetto a 22 non l'ho fatto fare più piccolo rispetto al passo ansa perché così me lo sfina un pochino mi piace ci sta bene single pass sarebbe un nato ma in realtà come un cinturino che fa single pass bello assai dai adesso bando ai discorsi inutili e guardiamoci un pochettino ai vostri video dito a un fuocato barra spaziatrice lì sempre sempre al suo posto non cede però la faremo cedere ciao davide ciao da circa tre anni che ti seguo e la tua ironia è più o meno sottile di far morire da ridere meno male ho 75 anni e spero di far ridere te questa volta partiamo perché sei minuti sono preziosissimi 1968 philip watch caribbean mille 38 mm andavo a 20 metri sott'acqua in apnea bravo e con i primi soldi fatti come fattorino di una lavanderina mi comprai questo subacqueo 1979 con i soldi dei regali del matrimonio andai a hong kong e mi comprai questo day just 31 mm perché allora questa era la grandezza che si usava per gli uomini abbiamo qua la testimonianza diretta di una persona che nel 79 utilizzava comprava orologi 31 mm e era la misura secondo me un po esagerato 31 è anche il 69 boh 31 mm poi dopo c'è stato un cambiamento epocale a fare ingrandire le dimensioni tanto più che 50 mm più si vede l'orologio è meglio è esagerato 31 esagerato da una parte 50 da 46 dall'altra una via di mezzo insomma orologi che farò bene per tutti no 38 39 40 41 42 bello con le giuste eccezioni paneraio e sportivi sappiamo già no bravo nel 79 si è preso il day just da 31 mm bravo acciaio e oro 1984 30 mm la saima era lo sponsor della mclarem che vince con vero nichi laura lauda il campionato del mondo di formula 1 fecero una grande festa a milano invitarono 200 giornalisti ordinarono dalla svizzera questo orologio e per regalarlo ai ai giornalisti io ebbi la fortuna di di averne uno bravo non sono giornalista bravo 1989 festeggio il divorzio da mia moglie con questo tagoyer e lo sapevo io nel matrimonio ti sei comprato il day just e poi festeggi il divorzio lo sapevo finisce sempre così 2038 mm simpatico tagoyer 1990 90 la mia seconda moglie rimane seconda incinta del mio primo figlio maschio vai per festeggiare vado dal rappresentante della jager lecultra e gli dico che voglio questo orologio però lui mi dici che è quasi impossibile averlo anche perché che gli manca solo l'anno è un complicato ed è difficilissimo dopo un anno e mezzo mi mi chiama di scappa che c'è l'orologio che era successo era andato a vedere invitato dalla dall'azienda a vedere l'esposizione a ginevra era andato l'ultimo giorno ed era l'ultimo a essere invitato per cui quando chiusero tutto aprì la vetrinetta dove c'era l'orologio l'ho prese e così l'ho avuto ha rubato senza scatola né garanzia l'ha rubato ma l'ha rubato ma capisco male io tra l'altro senza scatola l'ha rubato vabbè poi ho avuto dopo un mese due mesi di distanza ed è oro rosa bravo andiamo avanti polizia mi raccomando festeggio il secondo diver divorzio e lo sapevo io no ma cosa ti sei cosa ti sposi a fare se poi devi divorziare funziona così lo sappiamo tutti no come va è l'arco della vita ti sposi divorzi si disposi la seconda volta divorzi la seconda volta non è che siccome divorziato la prima hai già giocato il jolly è finita no divorzi anche la seconda mi meraviglio di te o 75 anni un omega dynamic 36 millimetri mi piace di cui sono ancora innamorato mi piace tanto a me questo passano vent'anni 2023 i miei figli per festeggiare i miei 75 anni mi regalano questo panzera si è caduto un passo acqua barin 40 e 40 millimetri con un movimento un lander on completamente assemblato e in in svizzera è tutto svizzero però la casa risiede in australia io nel frattempo in tutti quei vent'anni mese ogni mese mettevo un soldino da parte bravo perché mi ero innamorato top rolex explorer bravo a febbraio del 2023 vado dal concessionario rolex e ne esco deluso perché mi aveva detto che era molto difficile che io potessi avere questo questo orologio comunque prendi il numero di telefono di certo a metà agosto mi telefona dice vieni che c'è l'orologio sorpresa enorme lo vado a ritirare gioia infinita dopo vent'anni avevo un orologio che volevo io però c'è un però e praticamente io una settimana dopo che il concessionario mi aveva detto che ci sarebbero state poche speranze ero andato a questo punto era andato perché volevo un orologio ero andato dal concessionario della frédéric costan e avevo ordinato questo orologio lui mi aveva detto che avrei dovuto aspettare perché era un'edizione limitata di 500 pezzi l'ho avuto a esattamente a metà dicembre pur avendolo ordinato praticamente una settimana dopo il rolex il rolex l'ho avuta ad agosto questo a dicembre è un frederico stan classic premier 38 mm e mezzo e il movimento è un ljpg 100 e che cosa ti devo dire più lo metto al polso e più mi piace meno male ti faccio vedere il di dietro è tra 28 92 come puoi vedere bene questo anno questi orologi hanno scandito abbastanza la mia vita e spero di averti fatto fatto ridere come tu fai ridere me ma ho cercato di essere il più breve possibile avvo rimaniamo nei nei sei minuti ti saluto con tanta simpatia continua così grazie ciao carissimo 75 m che ha percorso tutta la vita appresso agli orologi tra un divorzio e l'altro tra un matrimonio e l'altro si è comprato gli orologi non ho ben capito il discorso dell'explorer e del federico stan però va bene tutti belli di orologi a parte mi sembra quel tagoia dell 89 che io ti dico che è brutto ma in realtà è bello perché rappresenta proprio il 1989 per tutti i presidi cioè non è che questi qua sono roggi che ha acquistato ora come vintage usati di secondo poso per se comprate te nel momento in cui esistevano te sei portati fino a oggi tanti tanti complimenti poi si sente la passione non mi piace mi piace il tuo modo di operare e di esporre bravo bravo ti auguro il meglio della vita magari non sposarti più fa in favore non sposarti più non voglio vedere un altro video 15 mi sono sposato la terza volta mi sono comprato l'orologio e no tanto sai che poi divorzierai alla prossima ciao davide ciao secondo video l'altra volta ti ho fatto vedere i miei vintage questa volta ti farei vedere i miei orologi subacquei devo dire una cosa devo ringraziare molto mia moglie perché molti degli orologi che vedrai in questo e anche nei successivi video sono tutti regali di mia moglie sono gli orologi più belli brava questo è un citizen pro master che credo tu abbia già visto per dire allora ti farei vedere questo citizen pro master sostanzialmente lo stesso orologio che abbiamo appena visto nel senso che ha lo stesso movimento e la stessa resistenza a venti atmosfere ma a differenza di quello che abbiamo visto prima ha una cassa in titanio ma soprattutto a una cassa che è particolarmente rastremata e liscia nella carrur in modo che l'insieme lo rende estremamente comodo anche ai posti più piccoli tanto che io ero convinto fosse con 38 mm di diametro invece verificando col calibro è quasi 42 da notare ancora la ghiera che ha subito 30 anni di battaglia e coi mostri marini che è estremamente rovinato essendo in acciaio mentre invece la cassa è perfetta senza una riga essendo il titanio e di questo bisogna ringraziare la citizen per la qualità del titanio velocemente darei un'occhiata a questo psycho monster degli anni 2000 dei primissimi anni 2000 simpatico che con una casa di 42 mm abbottanti e uno spessore di 12,6 mm in acciaio inossidabile fa sì che quando lo metti al polso hai la sensazione di aver indossato un piccolo peso da palestra detto questo non è un orologio privo di fascino ma bello mi piace mi piace questo orologio è un andan una marca semisconosciuta di hong kong non è semisconosciuta alla particolare non è semisconosciuta ho fatto anch'io la recensione ne ho avuto uno per le mani sono anche orologi che puoi anche personalizzare addirittura sul sito web costruirtelo come vuoi e fartelo mandare da hong kong sì 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 anche del personale che parla italiano se non mi sbaglio no e sono orologini così entry level entry entry level no niente da dire però non sono conosciuti anche tra gli appassionati c'è stato un periodo che andavano per la maggiore realtà di avere una forte personalizzazione in fase di acquisto per cui avere il quadrante le lancette eccetera eccetera io l'ho comprato esclusivamente perché avevo la scimmia di un orologio di bronzo e cercavo disperatamente un orologio di bronzo che non fosse 42 mm di diametro e soprattutto non costasse non ci volesse il mutuo per comprarlo devo dire che mi sono tolto la voglia ecco bravo non è un cattivo orologio ma no sin 1.50 top nostro orologio l'ho comprato il nostro amico pasquali e dominici da notare subito il sistema antiriflesso del vetro straordinario che dà la sensazione dell'assenza totale del vetro da dire anche che questo nonostante sia un sin e abbia una resistenza a 50 atmosfere a delle dimensioni umane diametro della cassa è 40 mm ma soprattutto lo spessore solo 11 mm per cui fa sì che eliminato il bracciale in acciaio che è piuttosto pesante è molto comodo anche nei polsi piccoli buonasera cosa da dire è come scritto sul fondello che è costruito con l'acciaio dei sommergibili tedeschi ora cosa vuol dire l'acciaio dei sommergibili tedeschi nel sito e anche sul libretto di istruzioni c'è scritto esattamente così non lo so fatto con la sin non ci dice che è un acciaio particolare una qualità particolare dell'acciaio neanche di che parte del sommergibile è fatto per cui paradossalmente potrebbe venire dal lavello del quadrato ufficiali questo voglio dire soltanto che l'acciaio è una è una lega praticamente cioè non è noi ferro carbonio bla 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 e in quello dei peri dei sottomarini che così come lo definiscono loro c'è in più c'è una componente maggiore di molibdeno e manganese che lo rende un pochino più resistente alla corrosione e il manganese gli permette anche di avere di poter ricevere poi quel famoso trattamento tegiment che lo indurisce il manganese favorisce quel trattamento lì è tutto lì il discorso poi ho anche tanto marketing insomma però sin è famosa per avere un sacco di brevetti di soluzioni tecniche quali ad esempio il sistema di deumidificazione con quella a volte non in questo non lo so se questo c'è comunque la valvolina a ore 8 per la deumidificazione del quadrante il sistema diapal per il per lo scappamento no oppure anche il tegiment appunto la ghiera a pressione per girarla c'è tutta una serie di soluzioni tecniche che sono veramente simpatiche che non dimostra altro che come spesso negli orologi la narrazione supera il contenuto per cui anch'io mi beo di avere un orologio fatto con l'acciaio dei sommergibili tedeschi non è fatto con l'acciaio dei sommergibili tedeschi come fa il buon caramai che spacca un aereo spacca il tornado e ci fa l'orologio è fatto con lo stesso acciaio con cui vengono fatti i sommergibili tedeschi quel tipo di acciaio lì con molibdeno e manganese mi sono spiegato paul picco le plongeur numero 1 tai chi sempre nomi brevi e semplici questo orologio qua secondo me è un orologio estremamente originale originale nel senso che non mi vengono in mente orologi che ci assomiglino sarà per la sua ghiera in acciaio satinata con i numeri fortemente in rilievo potrebbe essere anche un po dato dalle anse mamma mia e questo cinturino bracciale che sembra quasi un bracciale integrato anche se in cauciu anche dato dal fatto che il disegno del cinturino in cauciu è ripreso dal quadrante c'è questa specie di clou de paris per cui l'insieme da una sensazione di bracciale integrato anche se invece è un cinturino un cinturino anche la protezione della corona è molto evidente forte particolare il fondello è chiuso e la forma appunto della cassa è piuttosto originale si e si ma lucida con queste satinature non è che tutto quello che originale e bello è cioè originale può essere una regione perché a me sono roggio qua non piace proprio non mi va giù ma ma nemmeno regalato trovo che sia un orologio molto particolare cioè la polpico ne ha fatto una bandiera è stato quello che ha reso più famosa diciamo la polpico che l'ha declinato in mille dimensioni colori e varianti purtroppo oggi la polpico non ha più saputo rinnovare il suo catalogo inserendo nuovi modelli di dello stesso prestigio sia estetico che di qualità lo so è un orologio molto piccolo nonostante le sue 30 atmosfere di resistenza ha un diametro della cassa di soli 38 mm e uno spessore sotto i 10 mm ottimo particolarmente adatto ai polsi piccoli questo ultimo orologio per ora lo top questo è un bulgari diagonale professional sub insomma nomi brevi sempre va bene questo secondo me è un orologio che si distingue per la sua caratteristica di essere estremamente versatile nel senso che può essere indossato sia con un abbigliamento sportivo che con un abbigliamento un po più elegante formale senza fare una brutta figura nonostante sia chiaramente un professionale subacqueo con tanto di ghiera e il design è chiaramente sportivo però sarà per il nome che c'è scritto sul quadrante sarà per le dimensioni contenute 38 la cassa meno di 10 mm addirittura che questo la cassa e il suo design estremamente rigido quasi tedesco comunque secondo me è il migliore orologio che c'è sul mercato da poter essere indossato in qualsiasi occasione se lo dici te detto questo di particolare questo orologio a che come i due precedenti hanno tutte delle varianti di 2 8 9 2 età ma questo in particolare è stato rifinito e regolato da gerard per ottenere la certificazione cost 28 92 direi che abbiamo superato i sette minuti ho detto quello che dovevo dire ringrazio tanto davide per tutti i tuoi video saluto tutti quanti e auguro a tutti tanti unboxing unboxing di unboxing come ci piacciono gli unboxing allora devo dire che se hai iniziato con il citizen pro master li full loom e ho detto ecco fatto un altro che ci fa vedere tutti gli orologi che abbiamo già visto che conosciamo a memoria e invece poi si è andato completamente su un'altra strada bulgari polpico e poi non mi ricordo più che cavolo di orologi avevi ah il turtle landon il zin che è tanta roba che si è preso anche il top tutti orologi particolarmente originali e oddio originali il bulgari non è tra i miei preferiti ho dato il topo bellino bel polpico si può vedere comunque dai perlomeno ce n'è tutti originali ha vinto il zin comunque il zin zin sempre c'è prima o poi un zin mi ci vuole in collezioni l'ho sempre recensito l'ho sempre avuti per le mani in negozio da giacomo sono lì sulla sullo scaffale e non me ne sono mai accapparrato uno non è che non hai bisogno però mi piace mi piace proprio l'idea del possesso del possesso l'esperienza di possedere qualcosa che ti dà soddisfazione e quindi devi spendere solo va bene comunque si è promosso dai prossimo video ciao davide c'è ragazzo del canale sono del carino mi faccio vedere la mia collezione brevemente va senza però farvi schede tecniche perché bravo sono orologi iper diffusi per entry level senza arte ne parte e mi divertirò a farvi rivedere prima orologio mi sono comprato da solo primo orologio in realtà che mi hanno regalato era un case ma è esploso ma è un bel caso è un altimetro ragazzino mai visto nella vita dopo averlo perso mai più visto da nessuna parte era con degli indici arancioni parliamo di questo timex che probabilmente è una delle referenze più vendute ai timex con cinturini di ogni tipo e bracciali di ogni tipo io non so perché cerci questo bilanese ma perché forse perché non capivo niente non è bruttissimo ma non ci perderei tempo è indiglo ciò che è carina possibili secondo me è una bella idea sì sì un altro timex che presi per andare in vacanza al mare senza ansia di riuscire oggi questo qua è solare e quindi tecnicamente spero non muoia credo abbia un movimento simile ai sinistri ecodrive è in zaffiro ed è veramente leggero da secondo me ha delle finiture decenti per 100 euro che costa lo consiglio ai più è l'expedition north ultimo quarzo questo è un orologio che ho comprato per il semplice motivo che in foto era incredibile dal vivo l'ho provato mi convinceva e alla fine l'ho preso solo perché veramente credo pesi come una piuma buon motivo ottimo motivo per prendere un orologio alla fine l'ho preso proprio perché pesa come una piuma bravo bravo non è che il resto lì invece no magari mi piace questo quell'altro no vabbè citizen questo qua è il pilot diciamo che un pochino come modello uno dei cavalli di battaglia nodi e di citizen così con tutte queste informazioni sul quadrante un quadrante affollatissimo ora non so se questo è radio controllato come sono di solito allucinante sembra fatto di plastica radio controllato è paragonabile il peso ai ai nuovi swatch quelli su watch moon watch come peso sicuramente una roba allucinante incredibile che sia così resistente e ho capito è illegibile è difficile da capire serve veramente quasi due lauree in ingegneria per riuscire a capire le funzioni volete gli orologi che non le usi comunque volete gli orologi no con tutte le complicazioni cine sul quadrante questo qua chissà cosa c'è io non ne ho proprio idea ma non mi interessa nemmeno perché cioè l'unico motivo per cui dovrei prendere un orologio così è perché veramente mi servono quelle funzioni lì ma non ma non esiste c'è anche io generalmente negli orologi preferiscono il solo tempo veramente io preferisco il solo tempo cronografi ci lanciamo un po nei cronografi poi se il cronografo comincia avere anche il fase luna incomincia a storcere il naso troppe complicate già gmt è già qualcosa di troppo c'è gli oma non mi servirebbe cioè veramente io sono per la semplicità negli orologi cioè è una cosa abbastanza me sto rendendo conto è che sono abbastanza estremista su questo punto di vista qua ma nemmeno se fosse un super complicato no meccanico con tutte queste funzioni qua mi interesserebbe secondo me il troppo stroppia una cosa decente questa roba qua del del cambio del se viaggi ci sta pure altro orologio che mi son preso perché mi piaceva tanto seico samurai manta save the ocean finalmente mi piace perché in zaffiro non mi fa impazzire la lente ma vabbè ma invece funziona è funzionale ci sta ho messo cinturino per alleggerirlo o meglio nato lo conoscete molto bene certo secondo me ci sta anche per i polsi un pochino più piccoli fa un po' la figura giocattolosa però è comunque un bel seico altro seico questo perdonatemi metterò la referenza per impressione non me la ricordo assolutamente è un seico che ho cercato a lungo perché secondo me non venduti pochi per poco tempo srpd motivo ci sarà a me piace c'è questa questa rotazione della ghiera interna dei segni dei punti cardinali però esteticamente mi piaceva molto bravo trovo veramente semplice è strano con quelle ansie sotto lì non lo conoscevo non l'ho mai visto quelle ansie che nascono da sotto il fondello e poi vengono fuori così veramente tipo poliomelitiche così particolare hai fatto bene a prenderlo mi sono rimasto un attimino sconcertato sul discorso ssrpd perché la referenza srpd dei nuovi secco 5 no quelli nuovi secco 5 sport srpd si può c'è srp e sono loro però come si vede secco per le stesse con le stesse referenze le stesse quattro lettere indica anche roba diversa questo non è un secco 5 un po come se il secco skx con la cassa slim che il diver che conosciamo 0070 13 però ci sono anche altri orologi skx che non hanno nulla a che vedere con quelle casse lì è un po così non è che non si riesce con le prime quattro tre quattro lettere ad identificare sempre un modello di secco comunque da carino faccio vedere altri orologi che ho comprato nel corso degli anni 3 milton 3 bravo uno è questo khaki field automatico ovviamente in titanio pbd nero 40 anni abbastanza ma è veramente affascinante secondo me il fatto che si rovini ma mi piacciono queste cose c'è un po danneggiate con il sentello trovo la parte più bella che è proprio che si sbecchi ecco questo è un punto di vista da tenere in considerazione che spesso non magari pensa che il pvd poi dopo è si rovina col tempo no dipende un po anche dai punti di vista perché addirittura ci sono certe case che realizzano gli orologi già anticati già invecchiati di partenza te lo vendono già come se fosse invecchiato quadrante la cassa addirittura in questo caso invece questo orologio diventa così perché l'hai utilizzato te qual è il punto il punto è che se tu dovessi mai rivenderlo un giorno non è che fa una gran bella figura lì messo così sbeccato smangiucchiato e consumato il rischio che non lo voglia nessuno non che ci perde dei soldi ma che non lo voglia nessuno perché 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 se l'hai vissuto te l'hai rovinato te l'hai consumato te ha un senso quindi però quel senso lì lo devi portare fino alla fine dei suoi giorni cioè lo devi tenere per sempre per assurdo un po come faccio io con il nel mio oris d'aver 65 bronze no bello tutto patinato sono anni che ce l'ho c'è anche sui bei graffietti non ci sto attento per niente perché so che non lo venderò mai anzi nel momento in cui smetterà di vivere lo farò lo rianimerò con un bel massaggio cardiaco e lo riporterò in vita ecco dipende un po da cosa vuoi fare te se te lo vuoi tenere per tanto tempo è giusto che se che diventi così se invece poi un giorno ti stufi e dice ora lo vendo chi è che lo vuole e tutti fanno così ma tenterò te è rovinato se non sembra un giocattolo nero invece così vale la pena si illumina fortissimo si illumina fortissimo questo nato l'ho messo per dargli un po di colore un po di brio perché sembra tutto neo bel brio vabbè kaki field automatico da 42 tutti da 42 ma ho preferito il kaki king per averne uno un po più piccolo questo credo sia l'orologio che ho usato di più in assoluto negli ultimi due tre anni è un orologio che io non credo che per i miei gusti sia un orologio che possa portare meglio perché veramente in qualsiasi occasione sottile leggero si legge bene elegante le ha tutte è veramente bellissimo è un orologio che mi hanno regalato per il matrimonio cosa ti so viso date la referenza vecchia peccato per dire quella nuova è da 42 questo qua da 40 se non sbaglio non ha il non non ha il pallone automatic 80 ha il vecchio credo un età modificato se non sbaglio perdonatemi tanto le schede tecniche sono utili per questo interlevel ci sono dei movimenti semplici manca questo che è l'ultima versione del seiko gmt che è praticamente un ben mio remaster con la sfera gmt è veramente fatto bene certo costa un pochino per essere un seiko costa un pochino per essere un seiko proprio come sminuire un marchio con due parole con due no costa un pochino troppo per essere un seiko e dai se il seiko è un marchio che c'è spazia sia degli orologi economici agli orologi super costosi quindi non è che devi dire devi dargli un target devi trovargli un range nel quale esiste seiko se no no anche vero che molte persone ognuno ha le proprie idee molti non spendono troppo per un seiko non sono disposti a spendere tanti soldi per un seiko questo è vero l'ho sentito dire più di una volta però ognuno faccia un po come vuole è un samurai costa 4 500 euro quel che costa costa 1.700 di listino ma secondo me li vale il bracciale è fatto bene è bello se la clasp di fornitura lì guarda è veramente fatto bene e l'ho preso verde perché bravo è tutto dritto allineato dei miei colori e acchiappa un sacco di ditate soprattutto il metallo non ho capito perché credo abbia un trattamento antigraffio che però è poco leofobico è molto 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 versatile diciamo così si può mettere in teccasieri sembra più piccolo di quello che è al polso lo faccio vedere poi chiudo perché non ho più orologi per fortuna mariti per voi e come vedete non è così grande io un polso 19 pensate un po quindi lo straconsiglio forse non si era mai visto questo canale ci tenevo a farlo un saluto a tutti grazie e basta davide se mi dici quello che pensi di questa collezione o di questa di questo orologio lo specifico quello che diciamo di questa collezione si distingue un po e anche forse di quest'altro seico che si vedono meno spesso ciao saluto un saluto e fatela una risatina ogni tanto il video ha passato a farsi la risatina perché poi non si sa va bene se indubbiamente l'ultimo seico qua direi che il miglior orologio la punta si chiama miglior orologio è sempre brutto dire il miglior orologio brutto fa le classifiche diciamo è la punta di diamante e il fatto di sportività di robustezza si ci piace ci piace lì con quell'orologio li ha preso la funzione gmt che probabilmente non ti serviva l'hai pagato di più per quello cioè è logico che un orologio con versione gmt rispetto al paritetico solo tempo costa di più ci spende di più non si sa nemmeno perché perché basta vabbè però vabbè si è promosso dai non c'è una voglia di fare tanti discorsi con l'altro sei che ti avevo detto quello con le ansettine così simpatico vince il premio simpatia lui vince il premio simpatia ciao davide sono ciao cisco originario di viche quenza in provincia di napoli ma ti faccio questo video da gerola dove risiede la mia ragazza rosa che qui con noi ciao da da pochi mesi più o meno da da novembre del 2023 e mi sono appassionato alla tua simpatia la tua competenza in particolar modo alla serie in cui recensisci le raccolte di orologi dei tuoi iscritti va bene da alle ciance vi faccio vedere il primo orologio che ho posseduto almeno in tempi più o meno recenti che è questo brosway cronovolano che è stato un regalo per la mia laurea triennale da parte della mia qui presente ragazza rosa so che ho sbagliato allora questo non è il suo cinturino originale ce l'ho montato dopo ma penso di rimetterci a breve il suo che è in maglie milanese ma non stare a sforzarti tanto a cambiare cinturino metterci questo fare le prove è una cioffeca quindi non perderci energia guarda lì un bel quarzone cronografo brosway tutto placato in oro tutto quadrante una cioffeca in maglia milanese acciaio pv di nero nero c'ha un fondello leggermente lavorato vedi ci sono le macchine insomma è un cronografo come si suol dire su questo canale è bellino fa il suo fa il suo eh poi qualche tempo più tardi di mia iniziativa ho comprato questo casetto al quarzo guardate che bello questo casetto al quarzo qua tra l'altro ne ho regalato anche uno a mio padre qualche anno fa al quarzo perché lui lavora nel campo figurati un po' se stiamo a regalare un bello orologino al quarzo un caso a fondo bianco l'uva di arabi neri non era però così non è così elegante come questo cioè raffinato non è elegante questo qua è raffinato si vede che c'ha un bel quadrante sole è bello è bello a me piace anche se un quarzetto dai però da battaglia va benissimo non è niente di che però è molto carino diciamo che l'intento era quello di vedere se mi potesse piacere cambiare orologio quotidianamente a volte mettevo questo a volte mettevo il crono volano della broswee e quindi mi sono risolto che era una qualcosa nella quale volevo barcamenarmi un po' più seriamente quindi è stato il primo acquisto tra virgolette consapevole che ho fatto perché è un quarzo come tanti altri però è un quarzo giapponese è il casio e ha un prezzo giusto per quello che effettivamente monta come calibro va bene e poi passiamo al primo orologio meccanico che ho scelto in maniera consapevole dopo aver visto una tua recensione ovvero il citizen c7 riedizione del crystal 7 orologio se non sbaglio degli anni 70 questo è chiaramente moderno 40 mm di diametro quadrante bianco adesso a questi non piace ma a me ha stregato ero andato in gioielleria con l'idea di sciere tra questo e lo zuiosa e alla fine questo mi ha convinto di più perché ho notato che la lente magnificatrice non mi piace chiaramente ha il fondello a vista dove si mostra il suo migliota non è niente di che non è particolarmente bello da vedere però per un neofita era interessante io ho avuto fortuna questo è uscito sia con il fermo macchina che con la possibilità della carica manuale quindi posso farci tra virgolette di tutto ed è diventato un po' il mio everyday watch questa cosa del fermo macchina e carica manuale su miota serie 8000 sta diventando un po' una non dico una barzelletta ma una saga nel senso che non si capisce con quale criterio la trovi o non la trovi cioè non è più nemmeno da dire anzianità del calibro quelli nuovi ce l'hanno quelli vecchi non ce l'hanno perché è successo anche quando è uscito lo zuiosa alcuni ce l'avevano alcuni no non si capisce perché non che sia indispensabile il fermo macchina non è indispensabile no la carica manuale da un po' più da un po' più la mancanza da un po' più fastidio perché a volte quando lo vuoi far partire dai la carica e poi riesci insomma a regolare tutte le cosine sapendo che parti insomma con l'orologio carico no proseguiamo sulla scia dei moderni questo è stato l'ultimo regalo della qui presente rosa ovvero un orient maco 3 brava rosa è stato il regalo di natale di questo natale quindi quello del 2023 è un regalo molto 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 gradito devo dire qua non abbiamo il fondello a vista chiuso e c'è una piccola decorazione molto bellino e niente tiene discretamente il tempo solitamente registro allora questo qua è uno di quelli nuovi è natale natale 23 perché appena è uscito questo modello qua c'era un errore su tutti i quadranti su tutti i quadranti anche proprio sul rendering del sito web dei orient che poi come si come fanno a non accorgersene a volte non si sa che praticamente l'indice dei minuti a ore 26 era più vicino a quello del 25 rispetto a tutti gli altri cioè era una imprecisione che da condannare veramente cioè come fai a non accorgersi un orologio due possono scappare lì c'era proprio tutto il tutto il lotto tutti i quadranti poi sbagliati tutti i quadranti sbagliati proprio probabilmente addirittura dal dalla progettazione che hanno sbagliati trommaggine ti hanno dovuti ritirare e rifarli tutti questo qua è dritto ora che c'è gli acqui c'è chi ha quelli storti no uno potrebbe dire poveri poveri sfigati io sarei contento sinceramente avere uno di quelli con il con l'indice disassati perché lì mi rappresenta proprio la prima la prima mandata di uscita di questo modello qua che non diventerà famoso costoso iconico e tutto quello che vuoi però noi appassionati siamo così no i primi mesi hanno venduto questi qua che erano così tanti l'hanno mandato indietro invece certamente registro uno scarto di 9 secondi al giorno 9 è buono assolutamente accettabile il suo bracciale bello maglie pesante maglie piene pesante però a me piace con questo bracciale e quindi me lo godo godi volta posso bravo e per il momento ci fermiamo qua anche perché sono giovane ho da poco iniziato il dottorato con borsa fortunatamente quindi accumuleremo soldini a poco a poco nel tentativo di arrivare la collezione passando ai vintage ti faccio vedere rapidamente questo è un orologio del padre di rosa sta qui solo per cronaca metto a fuoco mettiamo a fuoco un po meglio c'è un vecchio orient al quarzo non c'è la batteria l'abbiamo tolta fortunatamente la batteria in fingarda non ha rilasciato l'acido e quindi il movimento al quarzo dentro non è stato danneggiato poi ti faccio vedere l'unico vintage che fino ad ora ho comprato consapevolmente ovvero questo timex marlin del 1976 o comunque della metà degli anni settanta un dress watch forse non rientra proprio nei canoni precisi dei dress watch il dial è virato in maniera simpatica diciamo così anche se ha un pochino di ruggine al centro è ruggine è ruggine chiaramente avvirato a pressione a scatto è chiuso il cinturino è un banalissimo morellato però questa testa di moro c'è ci sta particolarmente bene e registra uno scarto ridicolo di 50 secondi al giorno però ha i suoi anni e mi piace molto esteticamente monta un m24 senza rubini ed è questa la cosa che mi aveva incuriosito allora m24 senza rubini si vabbè 50 secondi va benissimo 50 secondi ragazzi ora io l'ultimo longin che ho preso ad esempio l'ho indossato ho messo l'ora ma nemmeno al secondo l'ho messo l'ora più o meno come è a occhio così e poi il giorno dopo ho guardato la lancetta dei minuti se più o meno corrisponde ai minuti della sveglia digitale no sì ci siamo il minutaggio è quello lì non sono stato a controllare al secondo se è più 30 più 35 più 40 meno 40 più un minuto più due minuti finché a occhio va bene e nei vintage va bene va bene così tanto più che è cosa normale cioè se uno volesse poi indossarli ogni giorno cosa che insomma che ha tanti orologi indossa quelli moderni se devo uscire andare a fare delle cose un po' particolari ma non particolari nel senso qualsiasi cosa non mi metto un vintage che potrebbe rovinarsi però se te la mattina vuoi mettere il vintage guardi l'orario ah un minuto manca tu tiri indietro un minuto lo sistemi lo carichi manuale e lo rimetti al polso è così che funziona quindi 50 secondi vanno più che bene per un vintage non state via già che l'hai misurato denota un pochino di malattia mentale l'M24 lì senza rubini sono quei calibri quello lì se lo tiri fuori è anche di forma ovale lo vedi che non ha non copre tutta la cassa perché è quasi ovale sotto è una particolare architettura ha il pin lever ad esempio come scappamento come ancora no? senza rubini chiaramente niente non ci sono rubini è un orologio costruito così quasi usegetta no? quasi usegetta ma se questo qua è quasi usegetta è arrivato a fine giorni nostri e addirittura ti fa 50 secondi che è tanto cioè è un miracolo cioè ci pensi un orologio senza rubini costruito così tieni te lo vendo dammi un dollaro e poi quando finisce buttalo via perché non si può revisionare e invece va continua ad andare vuol dire che insomma un minimo di senso l'hanno avuto è proprio il classico esempio di spendere poco per tanto per tanto poi che fa schifo lo vedo anch'io che è una cioffeca di calibro lo vedo anch'io però tanto tanto è arrivato fino qua eh arrivaci te movimento senza rubini l'ho pagato poco eh e lo uso anche abbastanza di frequente bravo dai gli ultimi due vintage sono ereditati da mio nonno nonno quando ho scoperto di avere la passione per gli orologi ho immediatamente chiesto a mia madre se ci fosse qualcosa di mio nonno rimasto lei in un primo momento mi disse no poi imbiancando la cucina abbiamo scoperto che due orologi c'erano e io chiaramente ho fatto i salti di gioia qua abbiamo un Rewell Rewell con movimento 17 rubini in cablock FHF se non sbaglio 76 questo l'ho fatto revisionare chiaramente il cinturino non è suo e neanche la corona perché la corona sua originale era completamente consumata quindi mio nonno evidentemente lo ha portato e anche tanto fatto bene attualmente mi registra uno scarto di circa 12 secondi al giorno quindi anche abbastanza preciso è fatto revisionare quello che mi piace di più è la sensazione di poter avere mio nonno al polso di potergli dare la mano visto che è mancato quando io ero molto piccolo questo è molto ha un diametro contenuto sono solo 34 mm 34? però sul mio polso molto poco abbondante ci sta particolarmente bene bene e chiudo per rimanere anche nei 7 minuti canonici con la mia perla diciamo così ma spero di aggiungerne altre questo è sempre ereditato da mio nonno ed è uno zenith stellina degli anni 60 con la cassa completamente in oro massiccio 18 carati bello quindi sono le 10 e 10 apposta per farlo sembrare più bello bravo questo monta uno movimento zenith 2531 2531 la corona è sua è originale così come la fibia chiaramente il cinturino no il cinturino è aftermarket ma è un cinturino con la pelle bravo bello con la stampa a mo' di lucertola e questo è l'orologio che per il momento rappresenta la mia punta di diamante ma come ho detto spero a breve di poter arricchire la collezione e a questo proposito ti chiedo a me se hai qualche parere in merito al microberende giapponese che ho a Ekyoto perché stavo valutando l'acquisto di un Royal Smith di cui spero di poter mettere un'immagine in sovrimpressione dopo in post-produzione e altrimenti stavo valutando anche il tissu Chemin de Turel di cui tra l'altro tu hai fatto una recensione l'unica cosa che mi preoccupa un po' è che il mio polso da poco più di 17 cm potrebbe risultare un po' troppo piccolo per i 39 mm di diametro del tissu quindi tu che ne pensi cosa mi consigli il budget comunque dovrebbe rimanere sotto i 1000 se hai altri consigli su questo stesso stile cioè uno stile moderno ma comunque elegante utile a poter passare per Dresswatch li apprezzerei notevolmente comunque ancora complimenti per il tuo impegno per il tuo canale e tanti cari saluti a te e a tutto il resto della community ciao ciao carissimo niente ti sei appassionato novembre 23 hai già un bel un bel parco macchine come si suol dire chiaramente il mio preferito è l'Orient macco lì quello lì da 40 mm che ti ha regalato Rosa ciao Rosa a Natale quello lì carino veramente carino poi i vintage lo stesso sono belli quel Timex lì che pur essendo uno dice che calibro ciofeca una ciofeca bra 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 ha senso di esistere e lo vorrei anch'io in collezione proprio per avere un esemplare di un orologio con un calibro senza rubini proprio storicamente parlando ha il suo senso track pietra migliare lo metto lì eccolo qua che tra l'altro poi è arrivato fino all'anno lo Zenith nulla da dire tutto d'oro bello orologio sopraffino chiaramente i gusti i gusti dei tuoi avi erano assai assai positivi allora il micro brand giapponese lì non ho idea di cosa sia quando l'hai detto pensavo fosse un piatto tipico di Nagasaki di Kyoto non lo so non ho idea sono ignorante ti so che mi è un orologio che a me piace molto infatti anche nella recensione si percepiva un certo mio entusiasmo nel recensirlo perché insomma te dici il polso è 17 ma il polso la circonferenza come al solito è la la somma di quattro lati facciamo finta che sia rettangolare sezione il polso quindi la circonferenza è la somma di quattro lati altezza altezza larghezza larghezza se uno ha la circonferenza da 17 e ha uno spessore da 1 vuol dire che sopra c'è la largo così c'è la più largo del mio capito quindi la circonferenza non è che andrebbe tantissimo utilizzata poi siccome siamo quasi io ad esempio ce l'ho da 19 ma ce l'ho da 19 ma c'è uno spessore qua che sarà 6-7 cm di spessore quindi la mia larghezza probabilmente è come la tua da 17 il 19 il 39 dello chemin del Tourelle chemin del Tourelle francese mi sta bene mi sta perfetto e secondo me ti sta bene anche a te poi lo devi provare decidere te devi anche considerare che non è un vintage o un dress watch da 37 da 36 da 35 da indossare è un 39 mm sportiveggiante non vedo perché non possa starti bene poi ripeto siete che devi decidere non è che devi chiedere a me se ti sta bene o no altre 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 soluzioni su quel budget lì e su quella tipologia non me ne vengono in mente ci sarebbe a che ne so l'airblend capo camaratti da 37 mm ecco quello lì col bracciale integrato potrebbe anche andarti bene quello lì oppure anche i villervetta questo qua è da 39 non so no la 37 non c'è no 39 però a quel punto prendi Chemin de Tourelle Chemin de Tourelle prossimo video dai ciao Davide ciao Francesco Pio da Potenza Francesco Potenza Francesco da Potenza guardiamo un po' la musica tovaglietta lì con simpatico questo questa trama mi piace poi metti i cd per cui io veramente non so che roba è che madre perla non ho la più pallida cosa sia grano poi qui sotto c'era la foto vabbè sicuramente è melma non è non è buona musica e oggi vorrei farti vedere la mia straordinaria collezione di orologi c'è anche qua o meglio umilissima collezione di orologi certo insomma qui c'è il pericolo di un di un uragano di Joe Feke Alert però insomma partiamo dal basso per arrivare un giorno in alto si spera iniziamo da quello più antico questo braille mamma mia di mio padre non so sinceramente insomma quanti anni posso avere è sporco anche fermo è a batteria è sporchissimo mamma mia vabbè quindi siamo col primo Joe Feke Alert poi questo casio un quarzon bellino questo qua carino sì sì anche questo fermo perché fermo eh oh vabbè cosa dire siamo a due dimmi perché fermo poi abbiamo questo calypso 10 atmosfere niente è una anche questo una super ciofeca regalata da una parente stretta alla mia cresima non ti dico la reazione mia e degli invitati quando abbiamo visto questa questa ciofeca in quattro si presentarono con questo calypso specifico ah poi ho fatto la colletta abbiamo questo altro orologio bellissimo gemio sarco sinceramente una marca blu ma perché anche questo fermo perché mi fa schifo fermo perché c'è la corona estratta vabbè anche questo forse manco 5 euro un'altra ciofeca Alert e ora arriviamo ai due orologi che indosso quotidianamente umilissimi perché insomma la condizione lo status sociale è quello che è e quindi ci dobbiamo accontentare di questo Luca Barba che Luca Barba scopiazza come si fa a chiamare l'orologio Luca Barba perché Luca Barba cos'è Luca Barba è un'oresteria perpetua della Rolex con scritto su Luca Barba la ciofeca rolex ma comparte un'orologio recente ultimo questo qui forse è il più bello un orologio sempre al quarzo della lotus ho cambiato anche il cinturino bravo spedi i soldi e niente niente è questo adesso entro fine anno ho l'obiettivo di acquistare un orologio almeno automatico vediamo un po' faccio un lavoro abbastanza umile quindi 50 euro alla volta ogni mese vedremo entro fine anno di comprare un orologio decente dentro 10 anni comprare un orologio che dopo tanti ciofeca alert almeno insomma speriamo di riuscire a prendere un top prima o poi prima di passare a miglior vita sei un grande Davide ti saliamo ogni sera io e mio fratello Alberto grazie sei veramente un mito un saluto a tutti gli amici del canale non sono tatuato però love 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 ma non servono 50 euro al mese per dei mesi per arrivare con 200 euro 250 ti compri ad esempio l'ultimo Citizen Pro Master Marine che è uscito e fai anche una bella figuretta nel senso che è uno degli ultimi orologi usciti che vanno per la maggiore o come aveva l'amico prima il maco che quello costa il tono e 200 è qualcosa il maco da 40 mm ci sono degli orologi che con 200 ce la fai 200 ce la fa chiunque perché non so quanto costano quelli lì ma 30 40 mettiamo che poi 30 40 50 tutti insieme ci avevi preso un orologio di quelli decenti invece che avere una sfizia di orologi da fare un appattonamento e poi metterli sotto la pressa idraulica schiacciare e quello che viene fuori buttarlo nell'indifferenziata perché c'è anche un po' di plastica dentro sicuramente quindi non puoi più e butti tutti via perché perché il discorso non posso comprarmi un Rolex allora mi sono comprato questo ma siccome non posso avere un diamante allora mangio la me no non posso avere un diamante potrò mangiare un'insalatina no ora ad esempio diamante e cibo non è che funzionato però più o meno è quello il discorso cioè è proprio farsi male è farsi male a comprare le ciofeche perché non posso avere il Rolex capito che poi non era un omaggio uno a uno quello lì la cassa era differente era il quadrante poi era il quarzo vabbè comunque sono convinto che sai da solo come andare avanti perché se mi guardi tutte le sere più o meno capirei come la penso io come la pensa qual è la retta via no vedi la luce e poi la retta via è quello lì che vabbè dai ragazzi mi sono anche stufato di cercare di redimere l'amico qua neofita ciofecaro io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video i video il presentatore l'orologio del giorno del presentatore e là dimora del presentatore vi ricordo quindi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love iscriviti al canale